L'assessore regionale della sanità Mario Niedu è intervenuto in audizione alla sesta commissione del consiglio regionale per riferire sul piano vaccinazione anti covid e sullo stato della diabetologia in Sardegna. L'esponente della giunta Solinas, che nei giorni scorsi ha espresso la necessità di rivedere il piano varato dal governo, che di fatto posticipa la seconda fase per la vaccinazione dei soggetti disabili e cronici. Confermando che sono in arrivo 7.000 dosi del vaccino AstraZeneca consentendo così l'immunizzazione dei soggetti fino a 55 anni. Grazie a tutti.